L'assessore Fera è subito arrivato qua in via Barabino per verificare la situazione di quanto è accaduto questa notte. Assessore, il Comune interverrà subito? Penso immediatamente. Questa palestra mi sembra un po' sfortunata con questi fatti che si succedono. Comunque la situazione è abbastanza grave, però penso che entro domani sicuramente interveremo d'urgenza. Se spostiamo, tagliamo il pino, lo spostiamo e poi facciamo intervenire una ditta che ripari il telo in modo da permettere ai ragazzi di continuare a vivere la loro palestra. Possiamo dire che in una settimana si dovrebbe riuscire a riparare il danno? Penso proprio di sì. La cosa è grave, domani già abbiamo giunta, esporò i problemi in giunta, ma penso che non ci saranno problemi nel rimettere insieme in settimana la palestra. Questo fa crescere sempre più l'attesa per la futura palestra di Pian di Poma? Adesso la caduta di un pino non deve accelerare o mandare fuori i tempi quelli che sono i programmi. Ripeto, sicuramente questa è una palestra precaria, quello che vediamo stamattina è una conseguenza della precarietà.